Ciao a tutti ragazzi, allora oggi faremo un'altra challenge, questo mi so che oggi pubblicherò 4 video, oppure pubblicherò una zona, mi ricordo, allora, cioè non mi ricordo, non lo so, facciamo la challenge di, ooo, cioè, la post-it challenge, però senza post-it, perché se lo compongi, me lo mettono così in testa, ma davvero te lo vedi così? Vabbè, non l'ho visto, così in testa, così, per lei abbiamo scelto, me lo vedo, sento che mi giro, ok, dai, posso girarti? Sì, ok, adesso lo farò su di me, poi lo farò su di lei, e poi su di lei, ok, iniziamo, vai, Allora, te lo ho messo girato, ne abbiamo scelto uno, tu l'hai visto quale è il rario? Sì Allora, sai, vero? Non glielo dire È un animale? No È un animale? No È una cosa da mangiare? No È il mouth? No È il telefono? Sì Ah, è il telefono! È lei che bello posto! Dai, dai, adesso io Ok, tocca a Eliana Eliana Allora Vai, scegliete Vai, dai Già un minuto del 40 Ok, aspetta Ti devi poter girare Così Della grossa Aspetta, no, no, così Ok Ok, ultimamente È questo Ok Ti puoi girare Ok Aspetta, Andrea Ok Vai È un animale? No No Perciò è un oggetto? Sì Si Si mangia? No E il computer? No Non c'è, non c'è lo scherzo Ah, va bene E il mouse? No Hai solo 5 tentativi Perciò quanti hai fatto i tentativi? No, le domande I tentativi sono altre cose 4 E la lambaga? No Basta 5 domande Ok, adesso devo fare una domanda Non tentativo Allora Con che lettere inizia? C Coppa? Sì Dai, adesso tocca a Clari Clari, metti di qua No Però ti devi mettere con Sì Lo so Con le ginocchia Ok Adesso ti scegliamo una cosa Adesso ti devi tirare Tirati, tirati Abbiamo scelto La fetta La fetta Sì, giusto L'ho messo Ok Dai Fai delle domande? E il mouse? No Sono 5 domande Gobba Non c'è Non c'è Gomma Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Questa è un po' Quale lettere Quale lettere inizia? C Coppa? No No Ok E già Seguo Quella finale O Ecco E poi finisci con la O Cos'avamo fatto noi? Non mi chiede se è un animale Se è una cosa Se è una persona Se è una persona No No È un oggetto? No No È un oggetto Al consumo di 5 domandativi No No Devi indovinare Le ha fatto le domande Non valgono Ok Dai Che cosa è Se è un oggetto? Quindi Cosa può essere? Se è un oggetto Ne è una persona È un Corio Vai Ok Tocca Ma Ma dobbiamo farlo Ma non è basta No Poi diventa troppo lungo il video No Ma già Sono passati solo 3 minuti Eh 5 minuti Poi si annoia A vedere un video di 10 minuti Allora Una Erika Kawaii Che ha fatto un video di 20 minuti Eh Però già era famosa Quando l'ha fatto Eh Va bene Così Eh Dai Ciao Ciao